Un evento per dire no al ritorno al nucleare, perché quello sicuro non esiste, come ben sanno anche gli abitanti di Caorso, la località piacentina che lo ha ospitato per anni. Questo è il messaggio lanciato dai relatori del convegno che è stato organizzato a Viadana, città che tanto si è mobilitata negli ultimi decenni contro la costruzione di una centrale nucleare sul territorio, per ribadire la grande pericolosità del suo utilizzo a fini civili, perché non si ripetano disastri come quelli di Cernobile e di Fukushima. Non solo, anche gli italiani si erano espressi tramite il referendum contro la costruzione di centrali nucleari. Non solo non esiste il nucleare sicuro, ma non esiste neanche nessuna sicurezza fondata sul nucleare militare, appunto, perché incredibilmente in questo momento storico sta tornando nuovamente in scena un pericolo che avevamo completamente rimosso dalle nostre coscienze, l'esistenza di qualcosa come 13 mila testate nucleari pronte ad essere utilizzate in scenari di guerra, che esistono adesso queste armi cosiddette tattiche che sono utilizzabili davvero in territori di guerra. E c'è chi sta pensando di utilizzarle, tant'è vero che il segretario dell'Associazione Unita, Gutierrez, ha detto che è incredibilmente tornata plausibile anche la guerra nucleare. E questo è uno scenario che davvero, come dire, devasta qualunque ipotesi di futuro. Uno scenario assurdo contro il quale bisogna fare di tutto. Eppure non è quello che sta avvenendo, nel senso che queste armi nucleari sono formalmente vietate, perché c'è un trattato internazionale che è stato in vigore lo scorso anno, di proibizione delle armi nucleari. Il nostro Paese non ha aderito a questo trattato. Noi chiediamo a chi lo faccia. Tutte le organizzazioni per la pace e per la non violenza chiedono Italia ripenseci, aderisce al trattato per la proibizione delle armi nucleari. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica presso il Politecnico di Torino, che si occupa anche di impatto delle attività umane sull'ambiente.